Chi vola è sicuramente la vero volle in Milano, parliamo di pallavolo femminile e lo facciamo con il nostro prossimo ospite Luca Muzzioli, fondatore di Volleyball.it. Buon pomeriggio, buongiorno Luca, grazie per essere con noi. Buona giornata anche a voi, grazie dell'invito. Grazie a te, allora ti chiediamo subito davvero la squadra di Paola Egonu, protagonista in finale di Champions League, cosa significa soprattutto per la pallavolo italiano questo risultato? Ricordiamo che potrebbe esserci anche un derby, potrebbe esserci una finale tutta italiana. Sì, che non sarebbe nemmeno la prima, l'ultima è stata nel 2018-19 fra Novara e Imoco e anche in quell'occasione c'era Paola Egonu nelle file di Novara. È un traguardo secondo me molto prestigioso perché le società purche investono molto, molto di più di quello che possono fare i club italiani, nonostante questo la nostra competenza tecnica, tattica, gestionale ci porta a eccellere e poi diciamo, tra piacere o non piacere, ma Paola Egonu è uno spettacolo per gli occhi ed è forse ancora oggi, nonostante abbia solo 25 anni, la miglior giocatrice italiana degli ultimi 20-30 anni. Siamo tornati ai livelli dell'atleta palavolista più forte del mondo, secondo te? Sì, secondo me la ragazza a Milano ha trovato un buon equilibrio, sia personale, umano che atletico, sportivo. La società è riuscita in un qualche modo a isolarla da tutto quello che le ruota intorno fuori dalla palestra, che peraltro non è sua responsabilità e non è sua colpa. E lei dice che sta esprimendo a livelli eccezionali e questo anche in chiave olimpica, lasciatemelo dire, lascia veramente desperare. Assolutamente. E a questo punto forse vengono qualche, viene qualche dubbio poi sulle scelte recenti anche in chiave azzurra, no? Con l'esclusione di Paola Egonu. Sì, dubbi ne abbiamo avuti. Credo però che fosse una storia completamente diversa. Forse nemmeno lei era al top di una condizione psicofisica. Io non so se questo nasce da un rapporto deteriorato con l'ex CT, però credo che sia comunque una storia che in un qualche modo contribuisce a far sì che lei oggi abbia questa fame necessaria per giocare in una maniera molto lucida. Nella partita di ieri sera, giocata a Istanbul contro il Penerbahce, è stata devastante. Non è stata, è stata devastante con 35 punti. Non è stata naturalmente l'unica giocatrice che ha inciso, perché la francese Casot, soprattutto nel Golden Set, ha dato una bella spinta al vero volley Milano. Però nei momenti chiave la palla finisce sempre nelle sue mani e lei la mette giù con un'ottima continuità. Credo che sia maturata molto anche dall'esperienza dell'ultima stagione in Azzurro che l'ha vista messa un attimo ai margini. Eh sì, eh sì. E poi per Milano naturalmente sarebbe un altro trionfo come città, ovviamente intendiamo nel calcio il Milan e l'Inter, nel basket l'Olimpia Milano e sarebbe un'affermazione importantissima anche per la pallavolo. Peraltro sarebbe la prima perché Milano ha della tradizione pallavolistica, soprattutto in ambito maschile, nel femminile un po' meno, però non è mai arrivato nessuna vittoria di un club milanese. Ricordiamo che il vero volley Milano fino a un anno e mezzo fa giocava a Monza e aveva come denominazione Monza, adesso si è trasferita a mia bagaglia Milano, gioca all'Alliance Cloud e quindi questa eventuale vittoria, perché poi comunque la Champions League è un torneo molto molto duro, un eventuale successo in questo trofeo sarebbe il primo successo di Milano nella pallavolo, quindi sarebbe anche un dato storico. Le premesse ci sono tutte, bisognerà anche vedere qual è l'avversario. Esatto, oggi pomeriggio l'altra semifinale, no? Sì, l'altra semifinale che vede in campo la Carraro, Imoco, Conegliano, che in campionata ha un'altra denominazione, un'altra sfida incrociata con Formazioni Tour, che si gioca contro l'Exacibasi, che è la squadra campione del mondo femminile per club, quindi insomma una sfida sicuramente molto impegnativa dove l'Imoco peraltro parte da un 3-2 casalingo, il classico risultato che per quello che è il regolamento pallavolistico di fatto lascia la partita aperta fino all'ultimo momento, perché Conegliano deve vincere due set, anzi, scusa, deve vincere la partita con il 3-2 e altrimenti in qualsiasi altro risultato 3-1 e 3-0 passa l'Exacibasi in caso di sconfitta aperta del Wessel Golden Set, quindi è sicuramente una sfida molto impegnativa anche perché l'impianto sarà caldissimo, in Turchia hanno caldissimo tifo molto caldo, il derby non è così scontato, però l'Imoco dell'ultimo periodo ha dimostrato di avere una bella testa, quindi vediamo se questa sera, questo pomeriggio ce la potrà fare. Ci dicevi Luca anche delle buone notizie per la nazionale femminile, allora ricordiamo anche i prossimi impegni che aspettano le azzurre di Velasco? Sì, si parte con la WNL, il torneo che di fatto sostanzialmente dovrà stancire la qualificazione pratica ufficiale dell'Italia e le Olimpiadi, le trabe le nazionali non lo sono ancora ufficialmente ma il ranking è il motivo, è la chiave per cui si viene ripescati, le ultime 5 squadre vengono ripescate, le Olimpiadi ci vede in una posizione talmente favorevole che è quasi matematicamente impossibile non qualificarsi, WNL e poi Olimpiadi a Parigi, l'appuntamento che la Paravolo Italiana aspetta ormai come quasi una mezza maledizione, un mezzo tabù. E l'obiettivo anche questa volta è arrivare il più in alto possibile, secondo te possiamo arrivare a una medaglia? Possiamo arrivare a una medaglia, credo che l'ostacolo più duro in entrambi i tornei siano i quarti di finale che è la prima partita da dentro fuori che mette sempre quella agitazione in più che magari in certe squadre possono accusare, le due nazionali azzurre sono squadre che sono già passate per il problema del debutto olimpico come gruppo intendo che è sempre una situazione che alla prima volta lascia tutti con la bocca aperta e fa giocare con meno attenzione perché l'Olimpiade è veramente un torneo a sé, non è un mondiale, è un torneo veramente diverso che in un qualche modo va in città, anche nella psiche dei giocatori che finiscono in questo circo sportivo meraviglioso. Questo gruppo sia maschile che femminile c'è già passato, quindi arriveranno alle Olimpiadi consci di dove sono e consci del fatto che l'unica cosa che conta è il campo. Superati i quarti di finale, se noi naturalmente riusciremo a fare questo, le due squadre hanno tutte le chiavi in regola per una medaglia, che sia quella d'oro o quella di bronzo, lì è molto complicato perché mai come nell'ultimo decennio i livelli a livello internazionale si sono livellati e sono tante le squadre che possono in qualche modo ampire una vittoria. E allora in bocca al lupo alle nostre nazionali, naturalmente anche per i maschi vale il discorso del ranking mondiale, giusto? Con gli azzurri a un passo dalla qualificazione ai giochi olimpici di Parigi. Sì, assolutamente, anche la squadra di FF praticamente è già con più di un piede a Parigi, i tecnici azzurri sono già andati a Parigi a fare i sopralluoghi per le strutture di allenamento, gli alberghi, gli alloggi e tutto, quindi insomma siamo già a Parigi, poi dobbiamo ancora avere il biglietto aereo in mano, ma siamo già a Parigi. E allora grazie a Luca Muzzioli, fondatore di Volleyball.it per essere stato con noi su Radio Uno Sport, un saluto, a presto! Grazie, a presto a voi! Grazie a tutti!